buonasera e bentornati a mi manda alessandro 2302 purtroppo ci dobbiamo trasferire per l'ennesima volta in veneto dove prosegue la saga dei tagli questa volta il riferimento è a tagli avvenuti a partire dal 2013 sulla linea treviso venezia infatti sono stati rimossi alcuni treni prima delle 10 sostituendole con i consueti bus per una politica che riguardo alle ferrovie prosegue con il suo menefreghismo nella tratta treviso mestre così come in tante altre facciamo un nuovo appello alla regione veneto per ripristinare questi treni un appello che però già si aggiunge a tanti altri fatti negli ultimi mesi questa politica non riguarda l'integrazione treno bus ma letteralmente una sostituzione che fa male al territorio e alla strada ferrata stessa speriamo di non poterne più parlare anche se purtroppo temiamo di continuare ad informarvi riguardo questi tagli al servizio sempre più ingenti a domani